È stato un bel colpo di testa, almeno dal campo sembrava così, il portiere è stato molto bravo, faccio i complimenti a lui. Sì, certo, questo ti fa capire la compattezza che abbiamo come squadra, come chi è entrato, chi è uscito, chi era in panchina, eravamo tutti in piedi a fare ognuno il tifo per l'altro, quindi siamo una squadra molto compatta e questo è l'esempio che riporta questo. Certo, è entrato, si è fatto trovare molto pronto, sappiamo che venire qui era difficile, come un campo difficile, una piazza abbastanza importante e rimanere in dieci, come hai detto tu, da subito, riafforza ancora la squadra che siamo noi adesso. Sì, siamo in cima e speriamo di rimanerci a lungo. Sì, eravamo uno in meno in campo, però siamo tornati in undici perché c'erano loro sugli spalti, quindi ci danno sempre una grossa mano e fa molto piacere. Dobbiamo mantenere questa fila di risultati positivi, ovviamente, portare a casa una vittoria perché dobbiamo rimanere sempre in cima alla classifica.